Dice è vietato fare le pubblicità alle sigarette per favore ma che dici ma stanno vestiti, scarpe, viaggi, col marchi di sigarette, i Malboro Country, i Camel Trophy e in più non sei onesto, capito? Ma perché le sigarette le associ a tutte queste immagini di cose positive, la moda, il turismo, la natura, la velocità? Con le sigarette dovresti sponsorizzare sciroppi per la tosse, chemioterapie, bombolo d'ossigeno, pare. Così saresti onesto della serie Noi della Malboro ti uccidiamo ma con tutti i comfort.